Sono iniziati i lavori di ripristino della sede stradale della strada provinciale 185 in via Orta Longa. La strada ai confini tra Angri, Sant'Egidio del Monte Albino e San Marzano sul Sarno è stata lungamente al centro di numerose polemiche per i continui allagamenti conseguenza delle piogge e dell'innalzamento del livello delle acque che hanno praticamente inondato per tutto il periodo delle piogge la sede stradale. Già qualche anno fa i consiglieri comunali del gruppo Progettiamo per Angri sollecitarono la provincia a intervenire. Prendiamo atto dei lavori in corso sulla SP 185 da parte della provincia di Salerno nella consapevolezza che siamo solo all'inizio di un intervento che abbiamo chiesto dovrebbe essere risolutivo anche dei problemi di allagamenti della zona località vagliana. Lavori che purtroppo si sono un po' nel tempo dilungati perché sappiamo bene la pubblica amministrazione tra il dire e il fare c'è di mezzo in mare. Noi abbiamo chiesto più volte la possibilità di utilizzo di alcuni ribassi d'asta di alcuni lavori già previsti sulla 185 per poter realizzare un impianto di sollevamento acque proprio in località vagliana laddove le sondazioni del rio Sguazzatoio e dell'alveo comune Nocerino purtroppo rendevano impraticabile quella strada tanto che anche i completamenti della cosiddetta strada parallela alla statale 18 che la provincia di Salerno ha in corso da diversi anni si erano bloccati proprio in quel punto. Prendiamo atto che la provincia ha preso in considerazione nella persona del Presidente Franco Alfieri della proposta di Progettiamo di Angri di realizzare questo impianto di sollevamento acqua in quel punto e finché non vedremo realizzato questo lavoro possiamo dirci non ancora soddisfatti. Questo intervento dovrebbe mitigare la problematica dell'allagamento della strada e rendere percorribile questo collegamento importantissimo tra l'uscita della 268 e la industriale di Angri, Sant'Egidio e San Marzano, una delle più importanti zone industriali del lago Nocerino Sarnese, ma anche rendere vivibile una realtà che purtroppo è diventata impossibile per gli stessi residenti e anche per diverse attività che insistono lungo quella strada. Recentemente anche l'amministrazione comunale e la commissione Rio Sguazzatoio, proposta dal consigliere comunale Alberto Milo, hanno attivamente sollecitato provincia e regione a intervenire con urgenza e a arginare possibilmente parte dei disagi provocati dall'innalzamento del livello delle acque in località avagliana. L'intervento ritenuto tampone dovrebbe in parte mitigare la situazione. Finalmente dopo tanti solleciti da parte nostra sono iniziati stamattina proprio i lavori per quanto riguarda il manto stradare di via Orta Longa e la strada statale e di questo siamo contenti e cerchiamo adesso di portare avanti tutti gli altri lavori che sono stati previsti con il nostro impegno e soprattutto con i nostri solleciti alla provincia, alla regione che facciano questi lavori al più presto possibile. Ci stiamo preparando purtroppo per la stagione invernale, non vogliamo più che i nostri cittadini abbiano quelle difficoltà, quindi proprio in regione abbiamo parlato di questo, il sindaco Cosimo Ferraioli ha sollecitato nuovamente i lavori da farsi per il Rio Sguazzatoio e soprattutto stiamo cercando di far passare questo come una straordinaria manutenzione per quanto riguarda il Rio Sguazzatoio, quindi una vera e propria emergenza, onde evitare appunto di arrivare di nuovo nella stagione invernale e affrontare i problemi di tutta la cittadinanza residente in quella zona.